Giampaolo Agnone, centrocampista della Robru, prima partita ufficiale della tua squadra in Coppa Sicilia, una sconfitta qui a Santa Teresa di Riva contro una squadra che tenta di vincere questo campionato di prima categoria. Sì, nonostante il risultato siamo contenti per l'esordio perché comunque abbiamo dato una buona prestazione, poi sono anche le prime partite quindi ovviamente si soffre un po' la preparazione e comunque, ripeto, siamo in prima categoria e già è un risultato, adesso dobbiamo cercare di mantenerlo. L'anno scorso avete vinto il campionato alla grande in seconda categoria, secondo te in questo torneo di prima siete una matricola, che campionato potrà fare la Robru? Innanzitutto dobbiamo stare con i piedi per terra, soffrire e poi viviamo alla giornata, cerchiamo di fare più risultati possibili e poi vediamo fin dove possiamo arrivare. Avete analizzato già il calendario, tutte le squadre della zona ionica sono nello stesso girone, comprese quelle del Messinese, che ne pensate? Beh, un bel girone perché ci sono molti derby, ci divertiremo, ovviamente andiamo a giocare anche in campi a Messina, terreni non facili, però vediamo, iniziamo e poi vedremo. Agnone e di Furci è rimasto nella Robru delle 2 anni, perché? Perché mi trovo bene, il presidente della Cana, mister Ruggeri, mister Fasolo, è un buon progetto, siamo un bel gruppo, siamo molti ragazzi di Furci, Santa Teresa, anche con gli stessi di Letoiani ci troviamo bene, veniamo da un campionato vinto e vogliamo continuare a dare soddisfazioni sia a noi che al paese delle 2 anni. Secondo te, prima di iniziare a boccia ferma, c'è una squadra che parte con i favoriti e pronostiche in questa campionata di prima categoria? Guarda, sinceramente, a parte le squadre qua della zona, ci sono squadre nel Messinese che non si conoscono e comunque parlano del Pellegrino, che è una buona squadra, di un'altra squadra, mi sa, del Riviera Sud, ora, non so, ovviamente all'inizio sono tutti pronostici, poi sul campo, specialmente credo nel girone di ritorno, si inizierà a vedere chi sono le squadre che la faranno da padrone.